buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è primo agosto duemila e 23 ebbene cominciamo il nuovo mese con la prospettiva di così goderci un po di vacanza perché il mese di agosto è il mese delle vacanze vedremo poi come è la situazione delle spiagge fanesi andando in una spiaggia particolare che abbiamo già visitato nella giornata di ieri ma intanto passiamo attraverso l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi sant'alfonso maria dei liguori e visse nel diciottesimo secolo era di napoli era il figlio di una nobile famiglia che però abbracciò la carriera ecclesiastica vescovo autore di molteplici opere letterarie teologiche e anche di celibri melodie natalizie pensate fu l'autore di tu scendi dalle stelle come versione in italiano dall'originale quando nascette ninno fu un uomo illustre per virtù e miracoli questo è santa santa alfonso maria dei liguori vediamo le previsioni del tempo ecco la cartina delle marche vediamo il sole dappertutto cieli in prevalenza sereni o comunque poco nuvolosi con transito di velature al pomeriggio i venti saranno tesi da sud ovest il mare dovrebbe essere poco mosso e le temperature si dovrebbero aggirare tra i venti che era la minima di questa notte ai 28 gradi verso le 14 le 15 di oggi pomeriggio allora andiamo subito in spiaggia andiamo a goderci un po di mare azzurro e chi incontriamo stamattina incontriamo Giovanni Giovanni dal lago della spiaggia animalido buongiorno Giovanni buongiorno buongiorno oggi in realtà siamo insieme gruppo della loa family della lega navale di fano con il presidente e l'istruttore thomas di sup e tanti altri amici buongiorno buongiorno ai tuoi amici che cos'è che hanno in mano Giovanni adesso ve lo spiega questa è una pagaia che ci serve per andare con le nostre tavole diciamo che è il mezzo di propulsione la mattina presto ed è bellissimo ed ha veramente gusto poverci la mattina presto quindi anche stamattina siete in procinto di fare una pagaiata in mare siete per partire sì siamo pronti per abbiamo l'immagine che va e viene adesso è tornata stavate dicendo dato che si è persa qualche parola allora siamo pronti per uscire perché l'attività sportiva soprattutto mattutina è molto importante per la salute ho capito e dove andate remate lungo la costa immagino sì sì facciamo un'uscita qui nella zona della razzilla della Gimarra una mezz'oretta tre quarti d'ora e poi tutti a fare colazione e siete siete in parecchi vedo quindi è uno sport che insomma ha un certo seguito adesso se riesco un gruppetto come si fa per fare parte del vostro gruppo basta ciao massimo buongiorno basta iscriversi in questo caso diciamo al club della lega navale e all'interno del quale Thomas che è un istruttore specializzato di SAP o SUP a secondo della cadenza che gli vogliamo dare e impartirà lezioni per stare correttamente in equilibrio sulla tavola e pagaiare nel modo nel modo corretto è un esercizio che esercita diciamo così un po tutto il corpo e si sta all'aria aperta e quindi è doppiamente salutare sia per l'esercizio fisico ma non da ultimo anche l'esercizio mentale che è quello di stare anche a contatto con la natura quindi è uno sport adatto sia per i giovani che per i meno giovani insomma sì assolutamente sì anche i bambini infatti della lega navale spesso si esercitano con delle tavole ci sono anche delle tavole più piccole e sono appassionati perché come appunto dicevo prima è anche un momento di divertimento e diciamo di uso alternativo di mezzi per quello che riguarda l'attività sportiva in mare benissimo benissimo vi auguro quindi una bella passeggiata è stato un piacere conoscervi quindi anche chi vuole chi vuole praticare questo sport che è uno sport salubre perché si svolge con un certo esercizio fisico ma ovviamente con le acque tranquille quindi vi auguro una buona passeggiata e ricordo soprattutto che siamo sulla spiaggia animalido che è una spiaggia particolare un po' una perla del nostro litorale in quanto permette a tutti coloro che amano i cani di trascorrere una vacanza insieme ai loro animali con tutti i comfort con tutti i servizi che la spiaggia offre grazie Giovanni grazie ai tuoi amici e noi ci risentiamo domani grazie grazie a tutti ciao ciao a tutti ciao abbiamo con noi i giornali questa mattina il Corriere Adriatico e il resto del Carlino ma noi apriamo la prima pagina di Fano sul sul resto del Carlino e vediamo una dichiarazione che ha fatto l'assessora alla polizia locale Sara Cucchiarini in merito agli atti di vandalismo che si sono verificati nei giorni scorsi nel sottopasso di Viale Cairoli a Lido qui ancora una volta sono stati presi di mira i pannelli dipinti che hanno dato un aspetto più decente più decoroso a questo sottopassaggio purtroppo ci sono quei vandali che hanno dispregio delle cose pubbliche e alcuni pannelli li hanno rovinati ancora una volta l'avevano già fatto in passato ma questa volta c'è un ma questa volta la telecamera ha ripreso tutta la scena e c'era anche il volto scoperto di uno dei ragazzi che ora è in corso di identificazione vandalismi a Lido abbiamo i volti ha dichiarato l'assessora Cucchiarini uno dei ragazzi sarà convocato l'assessora alla polizia locale fa il punto sul problema dei gruppi che scorazzano in città con atteggiamento velitario con atteggiamento trasgressivo dovranno risarcire i danni fatti hanno detto in più dovranno pagare anche delle multe ma serve un'azione più ampia per affrontare e risolvere il problema tant'è che proprio in questi giorni dopo le richieste di attenzione che sono state elevate tra cui anche quella del preside del liceo Nolfi Apolloni Samuele Giombi si sono incentivati i controlli si cerca un po' di monitorare la situazione non solo a Lido che è il quartiere più frequentato d'estate dalla gioventù ma anche i quartieri periferici come il Vallato, il Sant'Orso, il Poderino dove si sono verificati anche qui degli eccessi per l'assessora tutto si sta facendo con attenzione, si sta facendo il possibile insomma per cercare di ridurre alla ragione questi giovani e far capire loro che quello che stanno facendo non va bene perché si tratta di un patrimonio pubblico, un patrimonio di tutti e quindi vivere in una città bella, confortevole è una cosa diversa che vivere in una città degradata magari con manifesti strappati, con beni pubblici rovinati Vediamo le altre notizie, la seconda apertura sulla pagina del Carlino di Fano è dedicata alla politica e abbiamo una intervista di Maurizio Gennari a un candidato, diciamo così, all'attuale uno degli attuali candidati del centrodestra, Giuseppe De Leo Il centrodestra senza me non vince, ha dichiarato De Leo Fano è un paesone e deve diventare una città Giuseppe De Leo, unico candidato al momento del centrodestra La squadra ha detto c'è, abbiamo una squadra di valenti professionisti ed è anche molto competente Tra le cose da fare subito, De Leo ha indicato lo stop alla variante di Gimarra, il termine dell'Interquartieri e poi una valorizzazione dell'ex zuccherificio per indurre i proprietari di quest'area a sanificarla a, voglio dire, a bonificarla, diciamo meglio e fare ripartire le terme In più c'è la stazione ferroviaria che va sistemata perché com'è, com'è ridotta, è bruttissima un biglietto da visita che certo non fa onore a Fano c'è il problema che si tratta anche di indurre i privati a fare questi investimenti perché poi lo zuccherificio, le terme di Carignano sono ovviamente di competenza dei privati mentre la variante di Gimarra è opera del Comune insieme alla Regione Marche e invece la stazione ferroviaria ovviamente è di competenza dell'ente Ferrovie A fondo pagina abbiamo l'inaugurazione di un'opera d'arte di un'opera d'arte che è stata sistemata allo Scout Park Francesco Tonucci di Via Enrico Mattei si tratta di una scultura realizzata dai maestri carristi del Carnevale di Fano Mauro Chiappa e Francesco Bertulli espressione del progetto Prendersi Cura si tratta di una scultura che rappresenta due mani due mani appunto che possono fare del bene agli altri c'è anche una dichiarazione dell'assessore al welfare delle comunità del Comune di Fano Dimitri Tinti che ha ovviamente dato il suo beneplacito a questa iniziativa due mani escono dalla terra la statua che spiega la vere cura la vere cura degli altri la vere cura dei più deboli Giriamo la pagina e vediamo un fatto di cronaca un aereo ultraleggero ha compiuto un atterraggio di fortuna nell'immediato entroterra fanese nella zona dietro il Tris a Schieppe di Orciano ha avuto un'avaria al motore mentre era in volo è il pilota con grande sangue freddo è riuscito a planare l'aeroplano e farlo atterrare in un campo di grano in un campo di grano appena tagliato ovviamente ha procurato alcuni danni ma pochi rispetto a quello che poteva accadere danni al carrello e danni ad un'ala il problema è che quando è atterrato insomma non è che ha avvisato nei carabinieri nel proprietario del campo di quanto era accaduto si tratta a bordo c'erano due passeggeri due passeggeri che erano partiti si tratta di un 65enne di un 40enne che erano partiti da Monte Marenzo in provincia di Lecco ed erano diretti a Val Vibrata in Abruzzo quando si sono trovati appunto sul cielo delle Marche hanno accusato questa avaria al motore e hanno così vissuto per fortuna a lieto fine questa avventura e appunto ieri sono stati identificati dall'indagine dei carabinieri che hanno attivato subito le ricerche per capire chi era il proprietario a Marotta i parcheggi blu vanno in rosso cioè non incassano quanto preventivato a favore dell'amministrazione comunale nessun guadagno e solo danni ovviamente è una considerazione della opposizione sul lungomare di Marotta sono di più i parcheggi a pagamento vuoti che quelli occupati tanto che a un mese e mezzo dalla loro realizzazione il Comune è costretto un po' a rivedere le cifre che incamera le cifre che incassa dai parcheggi a pagamento erano stati calcolate in 240 mila euro a titolo preventivo ora invece questa cifra si riduce a 150 mila euro il che significa come questo atto questo provvedimento di trasformare i parcheggi in parcheggi a pagamento non è molto piaciuto ai marattesi che cercano ovviamente di usarli il meno possibile siamo ad Urbino a Urbino vediamo che ci sono tecniche desunte dagli antichi maia popolazione dell'America Latina per quanto riguarda certe situazioni di carattere femminile che possono avvantaggiarsi da queste antiche esperienze tecniche maia per aiutare il parto un corso di aggiornamento pensate per il personale di ostetricia dell'ospedale di Urbino molti benefici per le pazienti per tre giorni i professionisti dell'unità operativa di ostetricia di Urbino hanno sviluppato quei meccanismi quei metodi che erano stati messi a punto dalle popolazioni dell'antica America Latina i maia si tratta del reboso un particolare massaggio fatto con un telo e la sobada antica tecnica maia di rilassamento entrambe sono utilizzate dalla medicina tradizionale messicana moderna e anche andina cioè della zona delle Ande per la gestione di diverse problematiche che possono interessare la sfera femminile si passa dai problemi dai problemi mestruali alla infertilità alle infezioni alle vie urinarie al travaglio al parto così come in caso al prolasso degli organi genitali femminili ma non solo insomma ci sono diverse diverse tecniche diverse situazioni che possono trovare beneficio dall'antica sapienza delle popolazioni maia è una cosa veramente così inconsueta che le antiche popolazioni che ovviamente non avevano le conoscenze le tecniche del giorno d'oggi avevano però individuato alcune metodologie che erano efficaci e lo sono efficaci ancora oggi demolire gli edifici è una scorciatoia facile è una presa di posizione di Michele Felici già dirigente dell'ufficio tecnico urbinate che contesta la demolizione dell'istituto Raffaello in fase di abbattimento dopo la decisione di buttare giù parte del celli anche di Piobbico quando una demolizione di un edificio pubblico è necessaria e quando invece è un eccesso è un provvedimento evitabile e quindi in questo caso Felici invita l'amministrazione comunale a riconsiderare tutta la vicenda che ormai è in avanzato stadio di risoluzione ma comunque c'è anche un ripensamento in questo caso forse è meglio ristrutturare il Raffaello che abbatterlo e ricostruirlo a fondo pagina abbiamo invece un escursus sui cantieri aperti e i lavori in corso con i fondi del PIL 2 dell'Alta Valle del Metauro prosegue dunque questa attività per il rilancio culturale paesaggistico e turistico del territorio grazie al supporto del GAL Montefeltro i progetti privati sono già stati attivati mentre quelli presentati dai comuni sono in cantiere e alcuni di questi sono giunti ormai al termine e in questo articolo piuttosto corposo vengono elencati appunto i lavori in corso vandali in azione a Fossombrone dove hanno bruciato i teli che si trovavano nel corso i danni si sono limitati grazie al passaggio casuale di un cittadino che faceva jogging amarezza per l'accaduto in città si tratta dei vandali il Carlino dice i soliti vandali ma dire così sembra un po' sminuire la rilevanza di questa azione rilevanza ovviamente in senso negativo i vandali i responsabili hanno dato fuoco ad alcuni dei trappi di stoffa che in questi giorni abbelliscono i porticati del corso un'azione cretina dobbiamo dire che non ha alcun scopo se non quello di animare una notte magari di noia di queste persone che non hanno null'altro da fare ed ora passiamo invece alla pagina di Pesaro dove ancora si festeggia a Villa Fastigi per la vittoria sul paglio dei Braceri la festa continua Villa Fastigi si gode il trionfo ed ora puntiamo al record il record sarebbe la terza vittoria consecutiva il prossimo anno dopo le due ottenute quest'anno e l'anno precedente il turismo non decolla non decolla a Pesaro ma non decolla in tutta la provincia luglio chiude male meno 20% rispetto all'anno scorso giugno ancora peggio perché interessato dal mal tempo Fabrizio Oliva di Federalberghi afferma che il caro vita sta lasciando veramente il segno lo sta lasciando il caro benzina il caro alimentari e quindi la gente purtroppo più interessata a far fronte a questi problemi che magari andare in vacanza e quindi occorre risparmiare da una parte per coprire le spese dall'altra arrestato un ex commerciante in casa aveva 700 grammi di cocaina la polizia lo blocca al casello si tratta di un 53enne interrogato il quale ha collaborato resta in carcere era stato messo in crisi dal covid aveva ceduto l'attività da due anni e poi si era messo appunto a operare nell'ambito degli stupefacenti nascondeva in casa 700 grammi di cocaina corrispondente a un valore di circa 70 mila euro calcolando che un grammo può arrivare fino a 100 euro di incasso si tratta di SB vengono rilasciate vengono pubblicate soltanto le iniziali abbiamo detto 53enne pesarese ex commerciante nel settore alimentare attualmente nulla facente residente in una casa della periferia pesarese litiga litiga con i genitori chiama gli agenti e li aggredisce ebbè è finito in manette si tratta di un pomeriggio di follia di un 32enne residente alla celletta più fondi in cassa per quanto riguarda l'amministrazione comunale e vengono realizzati asili asfalti e manutenzioni il comune ci mette i soldi la sospensione delle rate di muti a causa dell'alluvione ha permesso all'amministrazione comunale di Pesaro di avere più risorse a disposizione che ora appunto investe in queste strutture pubbliche asili asfalti e manutenzioni e qua nell'articolo si entra poi nel particolare di questi investimenti un'ultima notizia per quanto riguarda il resto del Carlino sulla pagina di Pesaro si parla di case popolari case popolari in questo caso da incubo da mesi sono senza acqua calda e riscaldamento assurdo ad aprile sollevamo la vicenda della palazzina Erap di Vismara ma ogni tanto escono fuori questi problemi delle palazzine delle case popolari vi ricordate anche a Fano quello che è successo a Bellocchi quello che è successo a Poderino dove magari a causa di alcuni inquilini inadempienti si era sospeso tutta la fornitura del riscaldamento all'interno della casa oppure del gas quindi anche per cucinare i cibi ora il caso finisce in regione con una interrogazione di Biancani e della consigliera comunale regionale sempre del Partito Democratico Micaela Vitri allora passiamo al Corriere Adriatico e vediamo l'apertura c'è un altro articolo che riguarda il sondaggio che è stato effettuato per le posizioni del centro-sinistra in merito alle prossime elezioni amministrative i cittadini riconoscono i risultati ed è una dichiarazione del sindaco Massimo Seri partita elettorale molto aperta il sindaco interviene sul suo gradimento trasversale le primarie strumento migliore per scegliere il nuovo leader le primarie che sono state avvocate che sono state richieste soprattutto da Samuele Mascarene ora cominciano a convincere un po' tutti all'interno del centro-sinistra compreso il sindaco ma ovviamente il sindaco è fuori gara quindi non parteciperà alle prossime elezioni comunque il gradimento dei cittadini che è superato il 50% certo dà soddisfazione al primo cittadino che ora cerca di analizzare un po' la situazione così come il sondaggio l'ha rivelata dipinti vandalizzati a Lido identificato uno dei giovani il suo volto era stato ripreso dalla telecamera piazzata appunto per salvaguardare questi pannelli che hanno dato un certo decoro al sottopasso che è un punto obbligato di passaggio di tutti coloro che dal centro storico procedono verso la spiaggia del Lido il salotto di Fano anche il Corriere Adriatico interviene sull'atterraggio di fortuna di un velivolo giunto dalla Lombardia che ha avuto una avaria al motore ed è atterrato in un campo di grano nei pressi di schieppe di Orciano ed ora passiamo invece a Fossombrone dove l'apertura è dedicata all'incendio dei drappi e nei pressi del portico del corso forse impronese danno fuoco agli addobbi all'alba si rischia un rogo per fortuna è stato scongiurato da un passaggio da un passante che come ho detto faceva giochi e per quanto riguarda la Val Cesano vi dico l'ultima notizia l'auto rimasta tra le bancarelle così scoprono il malore in casa soccorso in anziano riverso sul pavimento il suo mezzo ostacolava il mercato e per fortuna questo mezzo ha suscitato l'allarme e quindi questo anziano si sta salvando e questo è tutto per oggi Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto